Perdi il controllo della tua vita, lo sa? Cambiare numero di telefono e la tua email diventa normale. Richiedere un ordine restrittivo normale, traslocare in un'altra città normale. Ma vedi ancora il suo stalker ovunque? Razionalmente so che è la mia immaginazione, ma sono da sola in una città sconosciuta e non mi sento mai al sicuro. Ci sono altri moduli che deve compilare, è la routine. Ho finito i compiti. Sawyer Valentini, prego, mi segua. Cosa? Senta, non ho molto tempo, devo tornare al lavoro, perciò... Cosa faccio qui dentro? Si spoglie e rimanga in mutandina. Non capisco che sta succedendo. È chiusa a chiave. Sarà meglio per tutti quanti. Soprattutto per lei, se farà come le dico. Ci deve essere un errore. Firmando ha consentito al ricovero volontario. Sono trattenuta qui contro la mia volontà. Sa quante telefonate come quella riceve la polizia? Quelle le fanno i tazzi. Quest'uomo mi ha seguito fino a qui da Boston. Chiamo la polizia e voglio che lo arrestino. Vi odio! Il mio stalker è qui. Abbiamo controllato accuratamente. Voi dovreste proteggere me. Mamma, nessuno mi crede. Ti tirerò fuori da qui. Per intervenire servono le prove che sia stato commesso un crimine. Fatemi uscire da qui! Devo essere impazzita. Devo essere impazzita. Mia madre non mi ha risposto ieri. Ruffa. Impazzita. Che le è successo? È stato scoperto un cadavere. Impazzita. 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 Lo sono fatto! Lui è qui. O forse è nella mia testa. Aàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà